Seguendo le orme della cognata Kate, nota come in regina del riciclo, Meghan Markle è riapparsa in pubblico facendosi notare grazie a un look total red magnifico e di grande impatto. La duchessa, 43 anni, ha preso parte a un gala di beneficenza organizzato dall'ospedale pediatrico di Los Angeles con lo scopo di raccogliere fondi. Era senza il marito, il principe Harry, ma ha comunque saputo far parlare di sé. La duchessa ormai si è costruita una vita al fianco di Harry in America e non mette più piede a Londra da tantissimo tempo. I rapporti con i royal inglesi sono di ghiaccio, tanto che i Sussex sono confinati tra i reali non attivi. Non è la prima volta che Meghan ha sfoggiato questo abito mozzafiato di Carolina Herrera. Già nel 2021, durante il Salute to Freedom Gala a New York, lo aveva indossato, ma stavolta lo ha riproposto in grande stile, rendendolo ancora più memorabile. Abbinato a sandali acquazzura e gioielli discreti. Per il gala il modello è stato modificato, via il lungo strascico rosso. È rimasta invece invariata la profonda scollatura dell'abito che mette in evidenza le curve della duchessa. Anche le scarpe sono diverse. Nel 2021 indossava dei tacchi chiusi rossi, mentre adesso dei sandali dal tacco vertiginoso acquazzura. Per non perderti i nuovi video.